Buona giornata amici da Massimo Foghetti oggi è venerdì 11 novembre 2022 e con la rassegna la stampa iniziano le trasmissioni di Fano TV nella giornata odierna come tutti i giorni leggeremo insieme il Corriere Adriatico il resto del Carlino con cronac locale ovviamente si parla ancora del terremoto e di tutti i provvedimenti che i comuni le amministrazioni comunali appunto hanno assunto in conseguenza a quanto è avvenuto la grande scossa che si è verificata alle 7.07 di mercoledì scorso e l'abbiamo appunto trasmessa in diretta qui nei nostri studi Oggi vediamo subito l'almanacco e vediamo che si festeggia un santo molto noto San Martino di Tour Vescovo San Martino fu il fondatore si può dire del monachesimo in Francia nel IV secolo quindi siamo poco dopo la liberazione del culto cristiano in tutto l'impero romano Umile e caritatevole e noto per aver diviso il suo mantello con un povero che tremava dal freddo La sua vita comunque è una grande fonte di insegnamento Fu eletto vescovo, fu molto amato dal suo popolo E durante la sua vita compì anche molti molti miracoli E poi insomma San Martino Campanaro è un'altra cosa, non si riferisce a San Martino di Tour Vescovo Però si riferisce a questo santo l'estate di San Martino Oggi il tempo non è certo clemente, lo vediamo adesso nella grafica Si addensano nel cielo delle Marche alcune nubi Sono comunque nubi inocue, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata I venti saranno al mattino e al pomeriggio tesi e proveranno da nord-nord-ovest Il mare è poco mosso e le temperature si mantengono un po' come quelle dei giorni scorsi Le minime sui 14 gradi, le massime sui 17 E forse di sera si potrebbe accendere anche il riscaldamento Ma questo dipende un po' dalle risorse economiche della gente E dalle ordinanze che stabiliranno i tempi e i modi da parte delle amministrazioni comunali Ed ora apriamo i nostri giornali non prima di aver dato un'occhiata al territorio Vediamo che cosa ci mostra oggi la regia Ah beh, è una immagine di Baia Flaminia Nel pesarese l'atmosfera è un po' fosca Vediamoci un po' di foschia, non è nebbia È una foschia dovuta alle nubi piuttosto basse che incombono sul paesaggio di questa giornata Questa è un'immagine appunto di Baia Flaminia Verso Pesaro, verso nord Ed ora apriamo il giornale sulla pagina del resto del Carlino Sulla pagina di Fano Dopo la paura si torna a scuola La conta dei danni Il sindaco Massimo Seri ieri ha convocato una conferenza stampa In un luogo preciso, in un luogo scelto non a caso Ovvero il COC, il centro operativo comunale Da dove poi si dipartono tutti i provvedimenti Tutte le decisioni che vengono assunte in caso di calamità Appunto come il terremoto Non oso immaginare cosa sarebbe successo se la scossa fosse avvenuta in terra Ha detto il sindaco Perché essendo avvenuta in mare Questo ha attutito un po' le conseguenze delle onde sismiche Che si sono poi propagate nel nostro territorio Comunque l'allerta resta alta già Perché anche ieri si sono succedute le scosse di assestamento Una in particolare, quella delle 1854-1855 È stata piuttosto intensa Molto avvertita dalla popolazione Così come quella che si è verificata intorno all'una Sono scosse di assestamento di notevole intensità 3.5 Insomma si aggira su questo valore della scala Richter E comunque sono scosse che tengono alto un po' l'ansia Per quanto sta accadendo E molta gente questa notte ha dormito con un piede Non dico fuori dal letto Ma insomma poco ci manca Da oggi comunque si torna a scuola E riapre il primo piano della residenza municipale Dove nella giornata di ieri sono stati effettuati controlli sul tetto Sarà però transennata l'area dove si trova l'ufficio controllo gestione Il lato via Nolfi, via San Francesco Per la presenza di una crepa sul soffitto E questa crepa può aver provocato un po' un disequilibrio del tetto E quindi occorre procedere con le verifiche E vedere eventualmente di compiere lavori di consolidamento Sarà interdetto l'accesso Spiega l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori A quella porzione della sede comunale Che più di altre è stata lesionata I cimiteri di ieri mattina sono tornati aperti Ad eccezione di alcune parti dei cimiteri di Sant'Andrea In Villis e di Carignano Terminati i lavori nelle cinque scuole Dove erano stati necessari interventi di lieve entità Problemi di carattere di intonaco Insomma di qualche scaglia di vernice Che era caduta a terra Si tratta delle scuole primarie di Fabio Tombari Quella di Bellocchi in scuola elementare E poi la scatola magica di Rosciano L'albero azzurro di San Lattro La Collodi di Gimarra e la Luigi Rossi In centro storico Non sarà possibile solo un'aula Della Luigi Rossi disponibile In quanto i lavori proseguiranno oggi Per tutta la giornata Operai anche nell'aula M8 della Memo Dove rimarrà inaccessibile Anche qui c'è stata una caduta di intonaco Dal soffitto Mentre comunque la Mediateca Riaprirà al pubblico Nessun problema invece per la Federiciana In tutto sono stati compiuti 111 sopralluoghi E 15 continueranno nella giornata di oggi 14 nelle palestre 43 nelle scuole 4 negli edifici sociali 18 negli edifici pubblici 8 nei cimiteri E 14 nei monumenti Nelle chiese di proprietà del comune Il COC ha chiuso ieri sera alle ore 20 Ma comunque rimane disponibile Per qualsiasi richiesta da parte dei cittadini I quali continueranno a verificare Le loro proprietà, i loro edifici Se ci saranno delle lesioni Potranno farlo attraverso tecnici di fiducia Oppure chiamando anche i vigili del fuoco Se la lesione di particolare entità Per trovare comunque un evento Di quella portata Che si è verificato mercoledì scorso Questo sisma che ha scosso Il nostro territorio Bisogna risalire al 1930 Quando il terremoto è stato veramente forte E ha coinvolto anche la città di Fano È stato allora che si è lesionata La chiesa di San Francesco Quella che è attaccata Alla residenza del comune Allora il tetto fu lesionato E più tardi dovette essere rimosso Non cadde in quella occasione Però insomma le lesioni furono così gravi Che la chiesa fu scoperchiata E rimane tale anche al giorno d'oggi I segni del terremoto su altre chiese Fondazione Chiesti Sopralluoghi E il terremoto di due giorni dopo Sono tre le chiese della Curia di Fano Particolarmente danneggiate Abbiamo la chiesa di Ronco San Baccio E poi anche la chiesa di Santa Teresa E Sant'Andrea in Villis Oltre alla chiesa parrocchiale di Monte Maggiore Che sono le chiese antiche Quelle vecchie che hanno subito dei danni In quanto ovviamente strutture Che risentono della loro vecchiezza Contro il caro Bollette Aset illumita la città a LED C'è un investimento considerevole Che ammonta 3.449.000 euro Da parte dell'azienda L'obiettivo è quello di contenere gli aumenti Ora si fanno degli investimenti Ma che poi saranno produttivi Nella gestione e nelle spese Della illuminazione pubblica Di tutta la città La proposta sarà discussa Nel prossimo Consiglio Comunale Convocato per il 15 novembre Si va dunque verso il risparmio energetico Ebbene i dati sono particolarmente significativi Nelle 2022 le spese sono aumentate Di 410.081 euro Passando dai 786.000 del 2021 Ad 1.196.111 euro Del 2022 Per il 2023 Dicono i tecnici di Aset Sicuramente non ci sarà Un calo considerevole dei prezzi Pertanto ad oggi è ragionevole Pensare ad un costo anno Di 1.390.000 euro Per l'approvvigionamento Della energia elettrica Per il servizio di pubblica amministrazione Insomma questa è la spesa Che il pubblico spende Per illuminare la città E poi si era parlato Di spegnere magari Metà dei lampioni Farne uno sì Uno no Oppure Diminuire La durata delle accensioni Insomma Adesso ancora Queste decisioni Non sono state prese Paolo Reginelli Il presidente di Aset Dice I tempi di realizzazione Di questo progetto Sono previsti In circa 15-16 mesi Dopo le gare Che verranno fatte In totale Saranno sostituiti E telecontrollati 9.200 corpi illuminanti Insomma Una mole considerevole Di lampioni In questo articolo Si parla Del nuovo deputato Antonio Baldelli Antonio Baldelli Che è il fratello di Francesco E' stato eletto E' stato nominato Nella commissione Nona Della Camera dei Deputati Quella che si interessa Di trasporti E infrastrutture Sembra un destino Il fratello E' l'assessore regionale Alle infrastrutture Francesco Baldelli E lui fa parte Invece Antonio Fa parte Della commissione Che si occupa Di trasporti E infrastrutture Quindi ci sarà Un collegamento Molto stretto Tra i due fratelli Un incarico Che il neodeputato Di Fratelli d'Italia Unico marchigiano A far parte Di questo organismo Saluta Con grande soddisfazione Si tratta Di un impegno A cui tengo Particolarmente A dichiarato E per il quale Darò il massimo Affinché possano essere Affrontate Per la loro risoluzione Alcuni dei problemi Che da anni Atanagliano L'Italia E gravano Soprattutto Sulle regioni E soprattutto Sulle marche Quindi un occhio Di riguardo In più Per la regione Di provenienza Dalla regione Che lo ha eletto La voelle in campo In ricordo Di Andrea Partita di allenamento Lunedì pomeriggio Al palazzetto Di Marotta Così si ricorda Sciarrini Cestista Di 40 anni Morto Per un improvviso Malore In molti qui Non vedono l'ora Di applaudire I ragazzi Del coach Jasmine Repesa E del presidente Costa È stata La dichiarazione Vediamo la pagina Di Urbino Si interviene Nella scuola Del libro Possiamo dirlo Finalmente Un intervento Milionario La cifra È considerevole La sede Di via Bramante È chiusa Dal terremoto Del 2016 Dall'ora Molto lentamente È partito Un enorme Lavoro Di restauro Dobbiamo dire Un enorme Lavoro Per quanto riguarda L'impegno Tecnico Che ha richiesto Questa incombenza Ma enorme Anche dal punto Di vista Dell'investimento E vediamo qui Appunto Il palazzo In fase Di restauro La biblioteca Contiene un tesoro Con le migliori opere Degli allievi Si parla Dell'ex Segretario Dell'Istituto Giuliano Donini Che racconta A parte i documenti E i libri Ci sono grandi Lavori artistici E si tratta Dell'Istituto Di via Bramante Che contiene Veramente Delle opere Molto molto Interessanti Ed ora Veniamo alla cronaca Vediamo Che si è concluso Il processo Per la morte Di una dipendente Dell'Ersu Poverina È stata sfortunata È stata colpita Nel colle Uccisa da un ramo Un risarcimento Da 900.000 euro Così Ha decretato Il giudice Il ramo Lungo 9 metri Con 32 centimetri Di diametro Cadde Da 7 metri Di altezza Era un ramo Piuttosto Considerevole Il processo penale Non ci fu Mancava Un responsabile Del verde Quindi non si sapeva Chi dovesse Essere colpito Però insomma Il risarcimento C'è stato E quindi la famiglia Di questa Infortunata Avrà il risarcimento Vediamo ancora Un altro titolo Che riguarda Urbino Un intervento Della Guardia Di Finanza Che ha sequestrato Un milione Per una frode Relativa All'evasione Fiscale La Guardia Di Finanza Ha scoperto Un riciclaggio Di denaro Otto gli indagati Inchieste Della procura Di Urbino E di Velletri I finanzieri Della compagnia Della Guardia Di Finanza Di Urbino Hanno dato Esecuzione A un decreto Di sequestro Preventivo Per un importo Di quasi Un milione Di euro Di denaro E beni Della disponibilità Di tre società Di capitali E dei rispettivi Amministratori Responsabili Insieme con altre Cinque persone Di una consistente Evasione fiscale Insomma Sono stati scoperti E ora dovranno Pagare Parliamo anche Di terremoto Ovviamente Perché vediamo Che anche Pesaro È stata colpita Da questa scossa Particolarmente In gente I danni Rilevati Dal sindaco Di Pesaro Matteo Ricci Ammonterebbero A 20 milioni Di euro Le scosse Degli ultimi Due giorni Altre due Molto forti 4.1 Ieri Stanno provocando Delle conseguenze Crepe anche Il municipio A Palazzo Gradari Musei civici Che rimangono Però regolarmente Aperti Quindi danni Piuttosto limitati E per quanto Accaduto Insomma Una scossa Così forte Dal 1930 La più forte Dal 1930 Possiamo dire Che l'abbiamo Scampata Abbastanza bene Perché insomma I danni Potevano essere Maggiori Ovviamente Disaggi Ci sono stati Li vediamo poi Continuando Nella nostra Rassegna stampa Come per esempio Disaggi I disagi Che hanno sopportato Questi due coniugi Erano in una casa D'affitto Che è stata Resa inagibile Dalla scossa Di terremoto E quindi Hanno bisogno Ora di una Casa Un tetto Per noi E anche Per i gatti Ovviamente Grazie ai Volontari Via da casa Ma gli sfollati Ritrovano il sorriso Si tratta di Marco Cacciotti E di Boriana Cosbodinova Che sono stati Accolti in un Bed and Breakfast Dopo l'intervento Del comune Dell'associazione Città della Gioia Danneggiata La loro abitazione In via Branca Crollati Gli intonaci Sono scappati In strada L'edificio È parzialmente Inagibile Quindi sono stati Sistemati provvisoriamente In un Bed and Breakfast E qui invece Vediamo Una chiesa Profondamente Lesionata Si tratta Della pieve Di Candelara Ferite profonde Un grande dolore Per la comunità Vediamo Qui il parroco Don Giampiero Cernuschi In questa Fotografia L'edificio Di culto È stato Dichiarato Inagibile Le lezioni Sono state Individuate In più punti A destra Dell'altare Le scosse Del terremoto Hanno destabilizzato Le travi Del tetto Provocando La caduta A terra Di calcinacci E poi Alla parete Sono emerse Anche delle crepe Anche nella parte Sinistra Della chiesa Dove c'era Un quadro sacro E dove Un tempo C'erano Gli altari Si è verificato Un episodio Simile Un distacco Dunque Di calcinacci Con caduta Di questi Dal tetto Che è stato Visibilmente Lesionato Anch'esso Dalla scossa Di terremoto Quindi E poi Qui vediamo Anche una foto Della Madonnina Dei cappuccini Che è stata Già pubblicata Nella giornata Di ieri Con la parte Posteriore Lesionata Crollata Dalla scossa Della prima scossa Di terremoto Di mercoledì scorso Multato 91 volte Per la ZTL Il giudice Ne fa pagare 46 Questo è un residente Che non sapeva Che per entrare In centro storico A Pesaro Ci voleva eventualmente Un permesso E che le auto Ovviamente Normalmente Non possono entrare E lui è entrato Regolarmente Tutti i giorni Tutti i giorni Prendeva multe A sua insaputa Ne ha beccate 91 91 multe E sono multe Particolarmente Ingenti Il cui valore Complessivo Ammonta A 8 mila euro Ebbene Lui si è presentato Di fronte Ha fatto ricorso Di fronte al giudice Di pace Ha detto Insomma Io non sapevo Che doveva pagare Adesso mi trovo In questa situazione Particolarmente Esosa Ebbene Il giudice Ha applicato Un principio Che quando uno Retira Sua insaputa Magari Un reato Per diverso tempo Lo paga Come fosse Una volta Al giorno E quindi Ha dimezzato L'importo Delle multe Insomma 4 mila euro È sempre Un importo Consistente Però Insomma È meno Di 8 mila È multato 91 volte Per la ZTL Il giudice Ne fa pagare 46 È stato applicato Il principio Di un verbale Al giorno Annullando I successivi L'automobilista Chiedeva Di cancellare Tutto Per essere entrato In buona fede Questo però Non è stato Possibile Benelli Numeri Da capogiro Un'industria Che fattura E fattura Parecchio Fatturato Verso I 120 milioni L'azienda Protagonista Della fiera Del ciclo E motociclo Di Milano Una delle più Visitate Tantissima gente Molti giungono Anche dall'estremo Oriente Nei primi Per le vendite Insomma Pesaro Si dimostra Ancora una volta Una delle Dei centri Più importanti Per quanto riguarda La produzione Di motociclette Dello sport Delle motociclette E per La capacità Dei propri Piloti Disabili Anche il comune Crea nuove Barriere E la denuncia Di Massimo Domenicucci Che è Presidente Dell'Associazione Piattaforma Solidale Che si occupa Della difesa Dei diritti Dei disabili Segnala Segnala Lui Una serie Di casi Per quanto riguarda Le barriere Architettoniche Che sono sparse Nella città Come L'asfaltatura Sotto il Cavalcaferrovia E vediamo Qui Queste Barriere Ci sono Ci sono Scivoli Che sono Impraticabili Ci sono Addirittura Poi Dei monopattini Che ostruiscono Il passaggio Nei marciapiedi Ci sono Scalini Invalicabili Dalle Carrozzelle Insomma Buche Scivoli Gradini Manto Sconnesso Scivoli Troppo ripidi Biciclette Parcheggiate Male Ci sono Insomma Un sacco Di Di Ostacoli Per chi Non può Camminare Con le proprie Gambe E deve Usare La carrozzina Ebbene L'amministrazione Comunale Dovrebbe Tenere conto Di questi Appelli Perché insomma Occorre Tutelare In maniera Più Convinta Direi Così Le persone Fragili Tumore Al seno Da domani Esami Gratuiti Iniziativa Anche Per le più Giovani Del centro San Pellegrino Con l'Istituto Oncologico Di Milano La consigliera Vitri Del Partito Democratico Marche In folle Ritardo A Pesaro Sta per partire Una importante Iniziativa Di prevenzione Gratuita Al centro San Pellegrino In via Del Novecento Qui Da domani Mattina Si potrà Avere Una visita Gratuita Gratuita Con i medici Dell'Istituto Oncologico Europeo Di Milano Che Interverranno Con due Radiologi E poi Con altri Dieci Medici E questo È importante Perché Aderire Alla prevenzione Vuol dire Poi salvarsi La vita In caso Di avere Quando si contrae Poi la malattia E qui abbiamo Il funerale Il funerale Di una Di una Donna Che si era appena Sposata Da tre giorni E purtroppo È deceduta Morta tre giorni Dopo il matrimonio Mara È stata la luce Per tutti noi Montecchio L'ultimo saluto Alla trentenne Il sindaco Occhielli Una tragedia Immane Per la comunità E beh Insomma Una Veramente Un episodio Un episodio Che ha Stretto il cuore A molte A molte persone Vediamo ora Il corriere Adriatico L'apertura È dedicata Ad un fatto Di stagione Siamo ancora In siccità Sembra strano L'abbiamo avuta Molto molto Prolungata In tutta l'estate Si sperava Che con L'arrivo Dell'autunno Le piogge Arrivassero Invece Sono solo Pioggerelline Insignificanti Sia per Sanare I serbatoi Carenti Del prelievo Di acqua potabile Sia per Gli scopi Rigui Dell'agricoltura Riemerge La carenza Idrica Per l'autunno Senza piogge Aset Sospetta Che l'inquinamento Chimico Sia reso Acuto Anche dal Calo Della falda Quell'inquinamento Chimico Di falcineto Basso Dove Si sono Trovati Dove Si è trovato Tracce Di un solvente La cui presenza È superiore A quella Dei limiti Previsti Dalla legge Quindi Quell'acqua Non è potabile Infatti Le famiglie Che si servivano Di questo pozzo Sono state Poi fornite Dalle autobotti Abbiamo trascorso Un'estate Terribile Ha detto Il presidente Reginelli Tanto da far Segnare Un record Di giornate Senza pioggia Rispetto al passato Giornate Che non sono state Affatto equilibrate Da altre Piovose Nei mesi Successivi Ottobre Per esempio È stato un mese Praticamente Asciutto A settembre Sì si è verificata Qualche pioggia Ma questo Certo Non ha Influito Nel Arricchire I serbatoi Naturali Che servivano Le falde Ovviamente Ma anche I corsi D'acqua Di acqua Di acqua Che poi Deve servire Per tanti scopi E appunto Della vita Quotidiana Bancarotta Assolti tutti I bianchetti I bianchetti Quella Famiglia Che gestiva Una nota casa Di abbigliamento Che liberazione Ora investiremo Hanno dichiarato La reazione Del padre Sauro Imputato Con moglie Due figli L'inchiesta Sul brand Siviglia Ebbene La famiglia Bianchetti Di Marotta Titolare Dei marchi D'abbigliamento Siviglia E' stata assolta Dall'accusa Di bancarotta Distrattiva E preferenziale Dopo il fallimento Della loro Società Una macchia Che è stata Sopra Questa famiglia Per diverso tempo Ora finalmente E' stata Dissolta Per fortuna Con grande Sospiro Di soddisfazione Da parte Di tutti Gli interessati L'Africa Chiama Fano Risponde Con Doposcuola E volontariato La ONLUS E' attiva A San Cristoforo Oltre che In Kenya Tanzania E Zambia Continua dunque A svilupparsi L'attività Dell'Africa Chiama A catalizzare L'impegno Della ONLUS Che sta Perpetuando La missione Intrapresa Da Italo Nannini Che è stato Il suo Fondatore Ci sono Altre Iniziative Si esplorano Altri campi Di azione Anche Inediti Per cercare Di avere Delle fonti Di sostentamento Per poi Riversare Nelle popolazioni Africane Che sono quelle Che hanno più Bisogno A Mondolfo C'è stato Uno schianto Un'auto Della raccolta Dei rifiuti Urbani Si è ribaltato Temevamo Il terremoto Tanto è stato Il rumore Provocato Dall'incidente Si tratta Di un furgone Della raccolta Differenziata Che si è sfrenato Mentre L'operatore Era Sceso Dal mezzo E poi Disceso Insomma Escorso Verso la strada E poi Si è ribaltato Il mezzo Della ditta Onofaro Rimosso Dall'autogru In via Montecocco Questa è la fotografia Del provvedimento Poi vediamo Anche la pagina Di Senigallia Riflettori Su Senigallia Città Della fotografia Tornano i fondi 80.000 euro Dalla regione L'obiettivo Della delibera È promuovere Il patrimonio Le tradizioni La cultura Marchigiana Ebbene Senigallia È la patria Di Mario Giacomelli E non poteva Non valorizzare Questa sua vocazione Della fotografia Con iniziative Di particolare Importanza Anche il Corriere Adriatico Ovviamente Si occupa Di Pesaro Per quanto riguarda Il terremoto Vediamo qui Che da Ricci Giunge un appello Al governo E alla regione Oltre 20 milioni Di danni Chiediamo aiuto Questa è un po' L'invocazione Del sindaco Per quanto riguarda I danni Che il sisma Ha provocato Al capoluogo E questa era L'ultima notizia Massimo Foghetti Vi saluta Vi dà appuntamento A domani Alle ore 7 Per le notizie del giorno Alle ore 20 e 30 Al Tg di Fano TV Occhio alla notizia Condotto da Simona Zonghetti E questo Per il momento è tutto A risentirci A risultare A risultare A risultare alle ore 11